Bella a tutti ragazzi qui AlexDXD666 e in questo video tutorial vi farò vedere come si costruisce la forca di Maxis Allora una volta costruita voi avete completato il primo passo dell'Estregg Allora iniziamo subito dal primo pezzo Allora il primo pezzo si trova nella chiesa La porta della chiesa come già sapete va distrutto con il gigante Andrete fino in fondo e dietro all'altare praticamente troverete la batteria ecco proprio qui La prendete e l'andate a montare sulla forca A questo punto mancheranno tre pezzi Due di questi sono coincidenti con quelli per montare la ghigliottina Quindi attenzione a scegliere se montare la ghigliottina o la forca In base a quella che scegliete dovrete fare l'Estregg di Richtofen o di Maxis Andiamo a vedere adesso dove si trova il secondo pezzo Il secondo pezzo si trova subito prima della casa dove stanno tutte le sagome delle armi E' lo stesso pezzo che serve per montare la ghigliottina Ovvero il filo Dovrete praticamente salire su questo tetto Poi scendere giù e prima di entrare nella stanza delle sagome Troverete un cucinino in un angolo Vi affacciate al cucinino e praticamente troverete questo spago Lo prendete e lo andrete a montare direttamente alla forca Una volta fatto potrete andare a prendere il terzo pezzo Ovvero il bicchiere di vetro Il bicchiere di vetro si trova nella casa sopra al gigante Al gigante E' precisamente sopra dove espona la cassa Ecco come state vedendo è questo qua Lo prendete e andate a montare anche questo sulla forca Tra fatto possiamo andare a prendere l'ultimo pezzo Ovvero l'antenna che si trova in fattoria Per prenderla basterà passare da dove abbiamo preso il bicchiere di vetro Saltare sulla fattoria che si trova di fronte Scendiamo e prendiamo l'antenna Che si trova in uno degli spazi in basso Ecco come vedete la prendete E andate a montare anche quest'ultimo pezzo sulla forca Una volta fatto Maxis vi dirà una frase Il che vuol dire che potete procedere con l'estereg Visto che costruire la forca è il primo passo dell'estereg di Maxis Bene ragazzi spero che il video vi sia stato d'aiuto Mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale Al prossimo video Mettete un bel mi piace e iscrivetevi al canale